I carabinieri del nucleo radiomobile della Compagnia di Vallo della Lucania hanno provveduto a denunciare tre giovani del posto per l'aggressione e i danni di due persone avvenuta nella notte di domenica nel centro cittadino. Si tratta di tre maggiorenni appartenenti a famiglie rom legati da vincoli di parentela. Gli accertamenti sono avvenuti grazie non solo alle denunce delle parti offese ma anche alle testimonianze dei presenti e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. È stato quindi possibile individuare questi soggetti dopo che diversi cittadini avevano anche richiesto maggiori controlli sul territorio per frenare gli episodi di violenza in particolare nella Movida Vallese. Ma non solo. Secondo alcune testimonianze infatti un senso di insicurezza si avvertirebbe anche all'esterno delle attività commerciali in particolare dei supermercati dove alcuni soggetti avanzano insistenti richieste di denaro. Le prime avvisaglie di una situazione che rischiava di degenerare si erano registrate già nel febbraio scorso quando in pieno centro in piazza Vittoria Emanuele si era registrato un duro scontro tra più persone alcune delle quali impugnavano anche delle mazze. Il video di quell'episodio fu pubblicato sui social destando rabbia e indignazione. Nonostante la forte condanna anche da parte delle istituzioni e l'annuncio di un potenziamento dei controlli tali episodi sono diventati poi una costante seppur sotto traccia. Per fortuna l'attività dei militari e le pronte indagini hanno permesso di individuare tre soggetti. La speranza è che ora nella Movida Vallese e in generale in città torni la tranquillità. C'è bisogno di una responsabilità diffusa e una vigilanza diffusa del territorio. Noi non riusciamo a controllare ogni centimetro quadrato di questo territorio per cui abbiamo bisogno di persone e di cittadine che siano attenti a quello che accade in città e ce lo segnalano, lo segnalano, non lo segnalano ai carabinieri. E ovviamente io l'ho detto ci sarà tolleranza zero, ci saranno anche presi di posizione della pubblica amministrazione molto molto drastiche perché basta adesso non se ne può più.